Di Paola Serristuri L'uomo dietro l'artista. Le grandi tele, le pagine dei diari, la corrispondenza raccontano la vita e lo stile di Eugène Delacroix, celebre maestro della pittura francese nell'Ottocento. La mostra nella Hall Napoleon de Louvre sino al 23 luglio ha del sensazionale. La forza di Delacroix? Innanzitutto, la modernità. Era apprezzato cezzanne, spiega ad affari Sébastien Hallard, direttore del Dipartimento delle Pitture dell'Ouvre, e divenne famoso molto presto. Sul finire della carriera fu un po' messo da parte per la sua trasgressione La trasgressione disturba sempre. Il romanticismo. Ci si può domandare che cos'è il romanticismo? In Delacroix è una grande sensibilità, unità a forza emotiva. Il desiderio di superarsi. Quando affronta più volte il medesimo soggetto, lo ripropone diverso. Un parallelo che mi viene in mente è con Picasso, ciascuno dei due un genio della propria epoca, sempre pronto a sperimentare. Delacroix sognava di andare in Italia, ma non c'è mai stato. L'unico grande viaggio è stato in Marocco, gli offrirono di partire senza l'obbligo di produrre delle opere, così accettò. Non amava spostarsi. L'ultima retrospettiva completa gli era stata dedicata nel 1963, centenario della sua morte, 1798-1863. Il percorso espositivo, come sottolineato da Allard e dal conservatore come Fabre, ha voluto anticipare nella prima sala le tele più grandi e famose, tra cui Dante et Virgile aux en fiers, l'aggressur les ruines de misolonghi, la liberté guidant le people, scendese massacres de scio. Da subito l'emozione s'apparenta col visitatore, accompagnandolo nella scoperta della personalità dell'artista. In una teca è visibile la pagina su cui, liceale, disegnava il profilo di Napoleone sul quaderno della lezione di latino, in un'altra l'ordine al fornitore di colori più liquidi di quelli che prepara per tutti gli altri. Studiava come perfezionare le trasparenze. Con la caduta dell'impero la famiglia della Croix, il padre era stato ministro degli esteri, era stata ridotta in miseria. A seguito degli investimenti sbagliati, il giovane Eugen si trovò ad essere più sfortunato dei fratelli. Deciso a seguire la passione per l'arte, si è dedicato con tutte le sue forze a creare uno stile personale, carico di emotività e che rompeva gli schemi neoclassici, sia per scelta dei temi sia per il modo di rappresentarli. Desideroso di riscattarsi dal destino. Ha lavorato per la gloria, da lui stesso definita una parola non vuota di significato. Per affermarsi scelse di misurarsi con la critica e di il pubblico dei saloni, tra gli anni 1822 e 1831, e poi ottenere incarichi a Louvre. Non viceversa. Lavorò per committenti privati e pubblici. Si appassionò alla litografia ed eseguì delle splendide illustrazioni del Macbeth di Shakespeare del Faust di Goethe. 200 opere documentano tre periodi, soggetti classici, murali, paesaggi. In contemporanea, il Museo della Croix presenta un'esposizione incentrata sulle pitture eseguite per la chiesa Saint-Sulpice, recentemente restaurata. Da ricordare che l'iconografia religiosa di della Croix si era ispirata alle tele da Rubens, reinterpretandola con una visione personale. All'auditorium del Louvre un ciclo di letture, recite, e concerti. Dopo Parigi, la mostra sarà ospitata al Metropolitan di New York. Invece dalla collaborazione con gli Uffizi di Firenze, nell'autunno 2019 nascerà la grande mostra dedicata a Leonardo da Vinci.